E' stato sossoscritto alla Prefettura di Messina il protocollo d'intesa per determinare l'età dei minori stranieri non accompagnati. Ieri, all'incontro presieduto dal Prefetto Cosima Distani, hanno preso parte i presidenti dei Tribunali di Messina, Barcellona, Pozzo di Gotto e Patti, il Presidente e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina, il Questore di Messina, poi per il Comune di Messina l'Assessore e le Politiche Sociali Alessandra Calafiore e il Commissario straordinario dell'Azienda Policlinico. Le parti hanno condiviso la procedura multidisciplinare per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati nei casi in cui sussistano fondati dubbi sull'età dichiarata e ad essa non si è attestata da documenti identificativi per assicurare le garanzie vista la particolare vulnerabilità di questi soggetti. Verrà formato un'equip multidisciplinare messa a disposizione dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano Martino, dall'ente gestore del centro di accoglienza del singolo minore straniero non accompagnato e dal Comune di Messina. Il Policlinico procederà anche a nominare un referente unico aziendale per i rapporti con l'autorità giudiziaria e le altre istituzioni coinvolte, cui sarà demandata anche l'individuazione di un coordinatore dei componenti del gruppo di lavoro per ogni singola procedura di accertamento dell'età.